Ciao, sono Anna Di Vita. Sono qui per portare la mia testimonianza per quanto riguarda il percorso di Patrizia Setteeducati che si è svolto il 25 di giugno a Reggio Emilia. Niente che dirvi, l'energia che si è sprigionata quel giorno era veramente potente, un'energia forte che tuttora me la sto ancora trascinando. Ho sentito veramente tantissimo amore. Mi sono portata dietro l'amore nel cuore, un amore profondo per me stessa. Ho capito che il risveglio era necessario e niente, lo consiglio a tutti perché chi ha voglia veramente di conoscersi non deve mancare a questi percorsi perché sono dei percorsi molto belli, molto forti e molto profondi. Che dire, grazie Patrizia, grazie con tutto il mio cuore. Ciao. Grazie.